Il Movimento 5 Stelle abbandona i lavori delle commissioni protestando per l'assenza dei ministri Gentiloni e Pinotti. Il Ministro della Difesa era intervenuto ieri in Parlamento proprio sulla questione davanti ad un'aula della Camera praticamente deserta. Luigi Di Maio attacca, Parlamento delegittimato concedendo le basi e aumentano i rischi per gli italiani. Dopo tre anni in cui il Ministro Gentiloni dice che per qualunque operazione eventuale in Libia avrebbe chiesto al Parlamento poi una mattina si sveglia che l'America ha deciso di andare a bombardare in Libia non può portare anche noi in questa guerra senza prima chiederci.